Antonio Mennella, vincitore del contest fotografico di TV City due parole sulla foto che hai scelto, che hai scattato e il significato che gli dai ha un significato molto importante perché lì è dove abito, lì è dove vivo e quella lapide rappresenta appunto onora quattro giovani ragazzi che oggi giorno purtroppo non ci sono più il comune grazie a quella lapide vuole ricordare quattro vittime innocenti dello Stato dopodiché ha un valore anche affettivo, personale perché lì è il punto in cui per la prima volta nella mia vita ho portato il carro dell'immacolata concezione l'8 dicembre 2019 poi da lì la veduta è spettacolare come possiamo vedere nella fotografia si osserva Capri, si osserva Sorrento c'è un punto panoramico fenomenale il contest era per i ragazzi dai 18 ai 28 anni, ci sono state diciamo alcune polemiche anche riguardante il tuo scatto, cosa ne pensi Mario? guarda è brutto commentare commenti di persone ignoranti, persone che non ringraziano ma polemicizzano solamente perché c'è solo da ringraziare la redazione di TV City che ha permesso tutto questo che ha permesso un viaggio andato e ritorno per Capri, da Torre del Greco quindi dal nostro porto per valorizzare il nostro territorio e non valorizzare altre situazioni ma valorizzare il nostro territorio, è importante valorizzare anche attraverso delle fotografie anche attraverso dei post che riguardino la nostra città e tutto ciò oggi non viene fatto è stata scelta questa età secondo me anche per dire ai ragazzi di incrementarsi all'interno della valorizzazione del nostro territorio perché siamo noi giovani d'oggi che dobbiamo portare avanti il nostro territorio, se non siamo noi a portare avanti questa città la nostra città morirà e io questo non lo voglio perché io voglio che Torre del Greco venga ricordata e ancora tutt'oggi deve essere ricordata come una città di fiori e di corallo e non come una città di degrado e di abbandono a se stessa